Costantino, allora lei ha parlato di sblocca Pescara-Montesilvano-Spoltore un po' in maniera ironica. Come sta andando avanti questo progetto? Allora, l'11 sono scaduti 60 giorni che la legge metteva a disposizione del Presidente della Regione per presentare il progetto e dal Consiglio regionale per iniziare la discussione. Io ho voluto, provocatoriamente ma nemmeno tanto, inserire nel sito del comitato, il sito è www.pescaramontesilvanospoltore.it, un countdown che dà la dimensione di quello che perdono i cittadini di Pescara-Montesilvano-Spoltore per ogni secondo di ritardo. Abbiamo estratto dallo studio di fattibilità pubblicato sul sito il costo della mancata fusione, sono circa 15 milioni di euro l'anno tra maggiori spese non tagliate e minori introiti non percepiti, li abbiamo divisi per i secondi, per le ore e per i giorni e abbiamo pubblicato questo countdown che ogni giorno ricorda agli amministratori che omettono di dare corso alla volontà popolare la misura e la dimensione del danno che stanno arregando ai cittadini. Ad oggi, in questo momento, il danno prodotto è già di 70 mila euro, cioè un giorno e mezzo di ritardo nella fusione ha prodotto un danno alla comunità di 70 mila euro. Io credo che in un momento in cui si tagliano i servizi e si inasprisce alla pressione fiscale fino a livelli insostenibili e inaccettabili, rifiutare questa opportunità solo e soltanto per le convenienze economiche dirette che produce è veramente inaccettabile. Quindi adesso lei cosa farà? Insomma, si rivolge alla politica in generale, però bisogna cercare di non perdere più altro tempo. Assolutamente no, io vorrei che questo countdown diventasse virale, che fosse pubblicato sui siti, sui blog, sui profili Facebook dei cittadini, per fare in modo che chi ha responsabilità di decidere tutte le mattine, quando si sveglia e raggiunge l'istituzione nella quale esercita la sua funzione, senta sulle proprie spalle il peso e la responsabilità di aver perso 40-50 mila euro, perché ogni giorno, mediamente, si perdono 40-50 mila euro. Non ce lo possiamo più permettere. Grazie a tutti.